Amiche della fioraia, buongiorno. Sono qui per un tè e per insegnarvi a fare un bracciale, diciamo così, un po' vistoso. Sto cucendo con un filò chiaro. E chiudo, ecco qua, i due garofanini e i boccioli di Mozart. Ci metto un micro puntino di colla. Questo è il nostro bracciale. Qui abbiamo messo insieme il color pavone, il color petrolio con il giallo ocra. Con le cose che ho imparato a fare oggi, questo è l'orecchino, io resisto.